A Terra Nuova Bracciolini, mercoledì 27, va in scena all'auditorium Le Fornaci lo spettacolo Il Paese dei Diari. Mercoledì prossimo alle 21.15 alle Fornaci di Terra Nuova Bracciolini Il Paese dei Diari, uno spettacolo con Mario Perrotta. Si collega a un'attività che si sta svolgendo a Terra Nuova e riguarda gli archivi storici. È un'attività che si fa in collaborazione con la Libera Università di Anghiari ed è collegata a Pieve e Santo Stefano dove c'è già un'attività diaristica. Questo spettacolo è un po' un collegamento tra tutte queste tre attività, progetti, tra l'altro finanziati dalla Regione Toscana. Uno spettacolo con l'autore Mario Perrotta, qual è anche il filo logico che ci deve far riflettere con questo spettacolo che non è solo a Terra Nuova? Lo spettacolo è molto legato al nostro territorio perché comunque nasce da una collaborazione con l'archivio diaristico nazionale di Pieve e Santo Stefano. Perrotta in questo spettacolo, che è tratto anche da un ammonimo romanzo, il Paese dei Diari, cerca di ripercorrere le pagine e le voci che più lo hanno suggestionato di tutto l'archivio diaristico di Pieve e Santo Stefano. È uno spettacolo particolare e molto interessante. È un racconto a due voci ed è molto poetico e vibrante. Sarà mercoledì a Terra Nuova Braccolini all'Auditorium, ingresso gratuito alle ore 21.15.